carissime amiche e carissimi amici buongiorno dal vostro caro giocherellone che oggi vi porta un titolo che mi avete richiesto in tanti un vecchio titolo della dream works spirit la grande avventura di la che andiamo a vedere praticamente insieme sarà un gioco molto molto spettacolare è bastato proprio su questo cavallo selvaggio te lo ricordi il cavallo selvaggio spirit te lo ricordi no te lo faccio vedere io racconta racconta la storia una giornata eccezione col cavallone col cavallone giornate eccezionale guarda qua guarda che cavallo guarda è arrivata è arrivata lei guarda la eccola qua te lo ricordi spirit scrivilo se te lo ricordi se ti ricordi spirit chi era il cavallo il cavallo selvaggio te lo ricordi quello che non si voleva far domare eccola qua lu buongiorno tesoro ciao ciao papà ciao cosa succede beh faccio un po di pulizia di primavera che ho trascolato un po troppo di cose in primavera cosa come mi ha ricordato a zia cora questa scatola così cari cosa contiene quella era tua mamma e lì che tenevi tu ricordi circodos grillo se avevo dimenticato che fosse quello posso darti una sbirciata per favore l'ho portata giù per te ah ah vieni vieni a pulire ma che non dici prima di sbrigare le tue faccende e va bene sbriga sbriga le tue faccende ed eccola qua la mitica ragazza l'amante dei cavalli pensate un pochettino ed eccolo qua nella tenuta di casa del papà la casa finisci i compiti più in fretta possibile poi vienaggio sofia de cesare ragazzi e sofia de cesare è arrivata arrivata sul canale del giocare l'uno è pronta a vedere spirit cavallo selvaggio la grande avventura di lucchi di lucchi ecco qua guarda guarda che bello guarda che bello questo gioco guarda ti piace il cavallone il cavallone selvaggio guarda guarda nella tenuta nella tenuta di famiglia praticamente l'acqua raggia l'acqua raggia non l'acqua già quasi fatto devo solo prendere un po d'acqua prendi prendi un poca d'acqua per camminare fai così per guardarti intorno fai così per il primo e non fai con lì ecco qua ed eccoci qua ragazzi è veramente un gioco veramente incredibile guardate che bella grafica sembra veramente un qualche gioco e non mi ricordo che già al questo gioco si chiama dream works spirit lucky big adventure la grande avventura di lucky con il personaggio praticamente vedi un pochettino della mitica cavallerizza e con l'acqua guarda la cavallerizza che ti guarda praticamente così con questi capelli fatto molto bene interagisce con la pompa dell'acqua quando lui si trova vicino a essa praticamente interagiamo interagiamo con la pompa vai a pompare ora i cavalli potranno abbeverarsi perfetto vai guarda qui guarda in che cos'è sto coso ecco è appunto che cos'è che cos'è andiamo a vedere andiamo a vedere sentite la mitica la mitica musica la mitica musica della lucky vedete ha qualche problema la piccola lucky che praticamente fatta in questa maniera vedete un pochettino sale veramente un cartone animato ragazzi la chi può raccogliere oggi si stiano accanto a sé perfetto raccogliamo l'orologione e qui ci sono tutti collezionabili ogni oggetto trovato viene salvato qui che bello ecco qua l'orologio del papà praticamente il vecchio orologio del papà di taschino che gli è caduto che gli è caduto quando ha fatto il malandrino dobbiamo dire la verità la che può chiamare spirit per farsi raggiungere a lui perfetto e spirit vieni vieni spirit vieni vieni chiamiamo spirit il cavallo selvatico ecco qua vieni vieni caro spirit guarda qua chi c'è il grande spirit te lo ricordi questo cavallone questo cavallone selvatico guarda ti tocco caro cavallo ti voglio bene il grande affetto tra la bambina e il cavallone ovviamente a spirit può montare sui quando si trova c'è non lui puoi ripristinare di cavallo vuoti spirit con un abbraccio di l'acqua i ferri di cavallo si ripristinano con l'abbraccione praticamente eccolo qua grande spirit e segui la busta per trovare l'obiettivo la tua prossima missione troviamo la bussolotta ragazzi mamma mia guarda andiamo spirit andiamo spirit lo spirit e vai 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 corri corri con il cavallello ecco qua è bello è bello l'hai trovato l'obiettivo ecco qua dobbiamo dove dobbiamo eccolo qua vai corri spirit molto bello ragazzi soprattutto credo che per i ragazzi usa scatto mentre cavallo che vuoi sperimentare la velocità ecco i ferri di cavallo mostrano tua energia utile lo scatto consuma i ferri di cavallo i ferri di cavallo si ripristinano rapidamente non consuma i tuoi ferri di cavallo spirit si stanca e la spirit si stanca col ferro col ferro di cavallo vai 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 caro spirit ecco qua può saltare mentre corre vedete un pochettino il grande salto di spirit è tutto in italiano poi il bello di questo gioco miradero ecco qua nuova scoperta spirit bruca praticamente possiamo scendere di cavallo ma possiamo anche andare praticamente vedete un pochettino addosso al cavallone vediamo dove dobbiamo andare vai spirit vai corri 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 col cavallone oh mamma mia ragazzi qui ha qualche problema spirit il cavallo selvatico il cavallo selvatico perfetto possiamo andare di qua e andiamo subito e andiamo subito da questa parte qua guardate spirit il cavallucciolo il cavallucciolo molto bello ragazzi vi faccio vedere meglio il cavallo ecco qua il cavallo eccolo qua vedete la grande la grande ecco qua spirit si sta stancando è un cavallo che si stanca si stanca un pochettino dobbiamo andare al trotto guardate un pochettino scavalca per oltrepassare staccionati altri ostacoli spirit scavalca automaticamente le recensioni molto bello andiamocene quindi da questa parte qua vedete ecco qua siamo andati a quest'altra parte qua e vai 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 andiamo spirit spiritellus spiritellus casa di gym gym il gorgonzola praticamente vattene di qua vedete l'acchi può parlare con le persone che hanno queste icone andiamo a qua ho il mio orologio da tasca grazie l'acchi l'ho cercato per tutta la mattina giocheri luni dopo giochi a fortnite si dopo grande campionato a fortnite cara sofia di cesare ora posso andare a guardare cosa c'è nella scatola di mamma spero che tu non voglia dare una mano al tuo vecchio scherzavo vai pure vai nella scatola della mamma vediamo nella scatola della mamma abbiamo completato la grande missione ragazzi apri 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 lo scatolone e vedi che cosa mamma ti ha lasciato cosa ti ha lasciato mamma vedi un pochettino all'interno qua è perché la mamma faceva il clown che ore che io credo che nel pomeriggio dopo pranzo dopo pranzo eculeus la mamma si 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 esibiva con eculeus ma che cos'è monkey island ragazzi siamo giocando a monkey island dopo pranzo dopo pranzo fortnite ok certo che ti invito sofia de cesare i posti che aveva visitato la mamma nelle sue tante ore di attività le domande della alla mamma abigail il personaggio di final fight quella che pitti le cazzotte va bene ecco qua oro già da schiena papà ma pensa nuova missione che dobbiamo andare dove dobbiamo andare dobbiamo andare più spirit via di spirit che guardi sotto alle parti intime di spirit molto triste questa scena ragazzi molto molto triste andiamo sempre attenta da questa parte qua il nostro mitico cavallino viene con noi praticamente vedete molto bene animato ho fatto molto bene vedete un pochettino e vai e vai vai spirit è la grande amica la grande amica eccola qua la grande cavalla praticamente la cavalla sta qua praticamente vai scendi scendi e scendi da questo cavallo scendi da questo cavallo ce la puoi fare ed eccola qua la grande amica cosa ha fatto cosa ha fatto ha guardato sotto la pancia di spirit boomerang si chiama il cavallo abigail buongiorno lucky mamma mia spirit il cavallo gigante buongiorno anche a te spirit la grande risata degli amici guarda cosa appena ho trovato o allo che davvero un bel disegno è un cane che suona la tuba o non ho capito una ragazza che gioca campana con bisonte cosa no abigail guarda meglio una mappa del tesoro un tesoro wow è ancora più credibile di un cane che suona il trombone ecco qua sofia dice che è triste è molto triste perché deve andare a vedere queste parti qua si l'ho trovato in una vecchia scatola credo che mia madre l'abbia messa lì perché io la trovassi pensi che si tratti di pietre preziosi magari un forziero pieno di diamanti e rubini o zaffili e ameraldi anche tu pazzi lapis lazuli giada o ambra certo certo ma non credo perché mai mia madre avrebbe dovuto avere un forziere pieno di pietre preziosi forse perché che conservava i gioielli ecco qua non è forse ovvio era una piratissa prima di unirsi al circo credo che tu stia facendo correre la tua immaginazione un po troppo i gioielli della mamma beh qualsiasi cosa sia su questo solo appartiene a tua mamma dobbiamo scoprire dove si trova è proprio quello che pensava forse andiamo a mostrarlo a pru a pru pru ecco qua pru pru ecco qua quando vai in bagno che fa che rumore fai pru pru andiamo a vedere all'interno che bella musica la musica oh mamma mia alla faccia sofia de cesare ha fatto una brutta ha fatto una brutta situazione vedi un pochettino andiamoci andiamo spirit salta un pochettino spirit quando salta qualche problema però eh ragazzi dobbiamo dire avete avete un pochettino sotto guarda come è in pazzo è pazzo del cavallo pazzo andiamo a vedere chi cosa abbiamo trovato praticamente in questo luogo fatta oh che bella grafica sembra veramente un cartone animato complimenti complimenti alla dream works guardate il pistolero il cabalero il cabalero guarda il cabalero sofia de cesare guarda guarda il cabalero guarda qua oh che cosa ci fa hendrick di nuovo in città non lo so ma non mi piace per niente vedono tutte quelle corde sembra che abbia in sensazione di catturare qualche cavallo selvatico sarà meglio che non provi ad avvicinarsi a un nuovo branco di spirit o no potrebbe provare a catturare spirit ma ma hendrick non uscirebbe da chiamare spirit neanche per sogni è troppo veloce per lui non è vero vecchio mio sono vecchio ma sono veloce in ogni caso sarò meglio tenere sotto occhio spirit e boomerang ragione un po di prudenza in più che non basta mai boomerang il cavallo che se lo butti avanti torna indietro ecco qua andiamoci a questa parte qua e ce ne andiamo praticamente spirit a paura a paura del cavallone ragazzi vedete un pochettino andiamoci a presente da questa parte qua e andiamo vieni con me vieni 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 con me vieni a fare a fare i trottorielli praticamente così e questo è il bello di questo gioco ragazzi che si gioca sempre e guardate c'è un mitico nuovo amico vediamolo vediamolo eccola qua la mitica amica praticamente la mitica dice ciao 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 come stai sono appena arrivato in città mi chiamo che cavalli che cavalli che ci sono in questa città che cos'è che cosa il buono di che cosa è un vecchio pezzo di carta ne ho a migliaia a casa ma non so che è una mappa il tesoro che ha trovato la chi è un segreto a biglietto voglio che altra gente si mette a cercare il tesoro hai ragione scusami non fare così non ci credo una vera mappetta sor fatemi vederlo di riconosco nessuno questi posti ma avete mai sentito parlare di cover nest mai sentito neanche io dovremmo chiedere a qualcuno che conosce molto bene la zona mio padre esplora tutta la zona in lungo e largo insieme a mia madre prima che nascessi forse sa qualcosa del tesoro si sa qualcosa hanno fatto nei campi la mamma e il papà a biglietto quando finirà per sentirti è giusto scusa scusa cosa stiamo aspettando nemmo a chiedere a tuo padre di crop ness andiamo andiamo sì ma la chi cosa che buc ricordo il mio indiromini non nominare il tesoro non vogliamo che sia qualcun altro a trovarlo preoccupate a biglietto super extra cauta sale super extra strong praticamente andiamo avanti come le 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 gomme praticamente alla grande tutto apposto tutta apposta andiamo nella stalla dove dobbiamo andare dove dobbiamo andare ecco qua sentirà al senti la musica papà i farei di cavallo di spiriti sembra quando beve l'acqua andiamo a far bere a spirit l'acqua e andiamo 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 a bere andiamo a bere l'acqua praticamente vediamo un pochettino la musica del far west la musica di spirit vedi pochettino in favore attenzione al cavallo nel cane il cavallo pazzo ragazzi guarda un pochettino questo cavallo che ovviamente ha molta molta sete cerchiamo di fargli bere presente a spirit vedi un pochettino no 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 vai di nuovo su spirit vai di nuovo su spirit ma adesso puoi bere qualcosa vedete un pochettino i cavalli quando spirit beve l'acqua e gli viene la tosse se gli viene la tosse praticamente al povero spirit andiamo 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 spirit andiamo spirit molto ben animato sto gioco comunque ragazzi sembra proprio il cartone animato della dream works dobbiamo dire avete intanto torniamo dal padre praticamente 6 essere vicina vedete spirit è proprio sta salta la staccionata ea qualche problemiello ecco qua col papà dove il papà dove che cosa è successo praticamente dove vai a casa a parlare con tuo padre va immediatamente non molto bello guardate qui che bello il papa ci aspetta con la scala telescomate altra scala papà mamma mia come fatta a spostare sta scala papà e che cos'è ma tu è roblox certo soffia de cesare guardate la scala del padre guardate come è fatta come ha fatto il padre a prendere sta scala non capito capisco il fatto di costruirla mamma mia che ha fatto il grattacielo di scala guardate qua guardate questa scala del padre quant'è alta mamma mia ragazzi e tutte oltre la casa non sia mai chi appena scivolato e muore il papa andiamo avanti andiamo avanti a parlare col papa ma tu è roblox ciao papà va tutto bene o sì ma che tutto bene solo che non ho idea praticamente di dove abbia messo il mio martello potrei giurare che fosse qui pochi istanti fa vuoi che ti aiuti a cercarlo sai forse l'ho lasciato accanto alla bacheca nella piazza principale ma un'altra volta indietro praticamente beh andiamo ovviamente con spirit quindi ha perfetto chiamiamo spirit ecco qua ci mettiamo su spirit il bacello a spirucciolo il grande ti voglio bene ti voglio bene spirit se un ottimo cavallone se un ottimo cavallone sentite la musica e quindi proprio un gioco che riprende il le grafiche praticamente del del caro del caro del caro film della dream works vai 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 spirit quindi basta tenere premuto vedere che carini tipi è molto bello sembra un cartone animato fatto molto bene sicuramente un gioco per persone piccoline di età ecco qua senza alcuno ma senza alcuna ombra di dubbio ecco qua vai scendi al cavallo ecco qua mamma mia mamma mia è veramente il cavallo pazzo praticamente ok perfetto ragazzi abbiamo che vi pigliamo il martellone del papà ha trovato il martello guarda qua mappa del tesoro quindi dobbiamo riportare il martello giustamente al papà quindi non tutto fare avanti indietro con queste missioni praticamente vedete ragazzi e possiamo andare subito ovviamente ad andare dal papà ovviamente quando vi trovate vicino all'acqua sapete già che cosa fare guarda un po spirit ha qualche problematica qui sopra vai a bere vedi un pochettino come beve fatto bene fatto bene non mi aspettavo un gioco più mediocre proprio perché forse maggiormente indirizzato e i bambaniele praticamente ai piccoli ai piccoli amici ai piccoli amici che ovviamente potevano sì sì sei proprio vicino al padre praticamente mamma mia come corre come corre ma guarda come come corre scendi dal cavallone scendi dal cavallone e scende giocheremo ora oggi cosa mangi credo riso e legumi riso e legumi cara sofia de cesare riso e legumi oltre solo 66 ora posso tornare a lavoro a parte il fatto di aver perso la scatola che avevo intenzione di usare un papà posso recuperarti credo che l'avessi con me quando sono andata alla stazione 3 stamattina però allora l'unico problema di questo gioco sicuramente è questa forse ripetitività ecco qua fa il video su youtube mentre mangio certo se vuoi sì se vuoi si mi fa piacere mi fa piacere ragazzi che vi faccia vedere vi faccia compagnia alla fin fine lo scopo di questo canale è proprio farvi compagnia ridere scherzare con con voi tutti con voi tutti quindi sicuramente fa il video su youtube faccio la live proprio faccio la live e poi verrà esportato il video su youtube pensa un pochettino così ci divertiamo tutti quanti e intanto spirito ovviamente ha anche qualche problemillo ecco qua qui sopra guardate qui insieme a tutti i cavallini ragazzi insieme a tutti i cavallini ecco qua è bello e divertente è bello e divertente è molto stanco ragazzi qui spirit deve riprendere fiato perché non ce la fa non ce la fa vedete un pochettino il trotto vedete il trotto per chiama i cavalli sicuramente è un gioco molto molto divertente ha dove andare dall'altra parte scusate ecco qua vedete ragazzi qui in realtà possiamo possiamo forse spirit non ce la fa e non ce la fa ragazzi non ce la fa ecco qua forse ha ripreso ha ripreso spirit ovviamente questa parte qua ecco qua guarda guardate qui il papa che cosa ha fatto si è dimenticato alla stazione praticamente ragazzi perfetto corri praticamente da questa parte qua guardate gli anzi ecco la scatola di chiodi del padre praticamente quindi vedete dobbiamo fare queste missioni ma continuiamo continuiamo perché con spirit ci si diverte sempre faremo il video mentre mangiamo praticamente guardate un pochettino ragazzi la mitica mitica sofia de cesare che ci tiene ci tiene alla compagnia del giocherello intanto ragazzi guardate qui sopra lo spirito lo spirito hai un po di spirito praticamente che in realtà indica a volte il coso praticamente l'alcol alcol etilico bevi 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 un pochettino riprendi ovviamente le tue grandi energie caro cavallo spirit e andiamo a portare i chiodi al padre se ne è passata un'altra giornata senza che il papà ha lavorato ho pensato un pochettino un po triste questa cosa sofia de cesare dobbiamo dire la verità ed è arrivata ed è arrivata anche lei è arrivata anche lei vai scendi 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 qui sopra scendi dal cavallo praticamente eccola qua pratica testa arrivando praticante a parlare col papà ecco di lato a scatola di papà perfetto grazie lui però posso riparare il tetto così non avremo più infiltrazione ottimo papà o domanda per te di che si tratta è mai sentito un posto editore chiamato crow nest o certo c'è proprio un essere un altro polotone di miradero se di tesoro il cuore riempire vorrai la salda per collina di crow nest prenderai dovrai ed aspetta cosa è questo è una poesia che tua madre recitava spesso fammi vedere se la ricordo ancora se ti di tesoro il cuore riempirai vorrai la salda per la collina crow nest prende e dovrai per attraversare l'acqua e schiumose un punto dovrai trovare poco dopo sul crinale dovrai montare dalla cima di una roccia forma di stena marina segue al nord il sentiero che alla meta ti avvicina sebbene non sia come loro lucente questo metallo e qui ancora abbondante attraverso il tunnel l'altro lato raggiungerai sarai quasi al tesoro e d'orgoglio ti riempirai ma quando dura sta poesia poi mira la nuvola più soffice bianca volte la scalata ti farà sentire stanche quando in cima sarai se trovare il tesoro vorrai guardare in cielo in lontananza dovrai giocherellone chi è simpatica chi è simpatica e la ragazza la ragazza molto simpatica anche tu sei simpatica cara sofia de cesare poi è stata mamma a scrivere questa poesia non saprei ma te la recitava sempre per farti addormentare alla faccia e dopo quanto tempo ti addormentavi 28 ore di poesia a me mi sarebbe piaciuto riuscire a ricordarla ti addormentavi subito abbiamo una foto di te addormentata tra le sue braccia grazie figurati cara sofia de cesare grazie grazie mille ovviamente la sua braccia subito dopo averla ascoltata recitare la sua poesia davvero mi piacerebbe molto è un vecchio album fotografico l'ho visto proprio stamattina in una delle scatole perfetto alla grande alla grande allora dove dobbiamo andare praticamente quindi ragazzi dobbiamo capire un attimo dove dobbiamo ovviamente andare e spirit vieni qua grazie grazie sofia de cesare ovviamente guardate un pochettino sofia de cesare guardate un pochettino l'album musicale l'album musicale ragazzi che ci fa ridere e scherzare va bene signori che dirvi questo è il mitico gioco di spirit cavallo selvatico e che dirvi ragazzi sicuramente molto molto intrigante molto simpatico il resto ovviamente lo do a voi gli diamo un bel un bel 7 ma abbastanza semplice ovviamente però per i piccoli per i ragazzi sicuramente molto idoneo io vi ringrazio per la visione vi aspetto più tardi ragazzi sui miei canali youtube e tu ci sono i principali gli altri li trovate in box informazioni saluto sofia de cesare che mi ha fatto tanta compagnia in questa mitica live ciao a tutti a tutti spirit il cavallo selvatico